Sì, 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 sì! Sì, 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 sì! Sì, 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 sì! Sì, 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 Grazie a tutti. 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 Buonasera. Grazie a tutti. Passeremo. Grazie a tutti. . 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 S'attacca. Un adesino vero. Si toglie il cartoncino e si attacca. il vero premio di cielo è questo. Un LP. Era vulgaris. Con la nostra amica Roberta. E' venuta a fare i giochini di luce con... Granddad. ... Eeeeeeeeeh. Eeeeeh. Eeeeeeeeee. Non siete molto contenti perché sarete un poimiliosi. Lo so, ve l'ho detto, voi ci sono volete e non vedete a prendere. Pagando ovviamente una cifra giusta, che accorgeremo, toppe concerto. Grazie. Era Murgare, voluto scoprire la nostra vittitora, Roberta. Applauso! E dopo di ginnastica aerobica. Grazie. 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 Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Spazio Spazio Grazie a tutti 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 Un applausi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti